Che sia il teatro marruccino, culla affettuosa dell'opera lirica, ad accogliere l'attribuzione della cittadinanza onoraria a Alfredo Paglione, non è solo bello, ma, per così dire, anche pertinente per uno che visse d'arte e visse d'amore. Cittadino onorario di Chieti da oggi, uomo generoso da sempre, il mecenate Paglione ha fatto ciò che si dovrebbe fare con la cultura, donarla. Opere di tanti artisti di livello mondiale che Paglione scelse di destinare alla città da gestire attraverso la fondazione a lui intitolata. 3.000 le donazioni effettuate in Abruzzo, 1.500 solo a Chieti. Il suo mecenatismo ha fatto sì che abbiamo un museo, una pinacoteca ricca di opere, di sua appartenenza, che ha regalato alla città di Chieti, di cui non possiamo essere altro che grati. E questa manifestazione di oggi, questo consiglio straordinario, è il segno tangibile, evidente, della nostra riconoscenza. E questo consiglio straordinario sarà importante anche per sottolineare l'adesione della città alla cultura che ha sempre dimostrato. Pertanto siamo veramente orgogliosi di stare tutti qui oggi. Tra l'altro Alfredo Paglione da oggi sarà cittadino onorario di Chieti. Sì, infatti abbiamo approntato e redatto una delibera del consiglio straordinario per dargli la città onoraria ed è uno dei massimi riconoscimenti che un consiglio comunale può dare ad un suo illustre cittadino. La cultura è ovviamente un bene immateriale nelle sue varie manifestazioni, talmente importante per la società, ma anche per noi dell'amministrazione che ne abbiamo fatto, tanto che ne abbiamo fatto un emblema del nostro mandato. E devo ringraziare a questo riguardo il mio vice sindaco, l'assessore alla cultura Paolo De Cesare, che tanto si spende giornalmente perché tutti gli eventi portati alla ribalta siano di altissimo livello. Mi permetto di aggiungere anche che, contrariamente a quando molti pensano, la cultura è anche economia perché porta ovviamente persone appassionati di arte nelle sue varie manifestazioni e la città ne gode tutta. Un allievo in disposizione non ha permesso ad Alfredo Paglione di essere presente al Teatro Marruccino. Per lui è intervenuta la sorella.